Ciao, sono Benedetta e sono di Piacenza. Il mio viaggio con Patrizia è cominciato circa tre mesi fa ed è stato un viaggio magico ed entusiasmante. Patrizia è veramente una persona meravigliosa, un dono del cielo e grazie a lei, oltre ad aver capito quello che devo fare nella mia vita, sono riuscita a guarire tante ferite del passato e a lasciarmi alle spalle tutti quei sentimenti di smarrimento, di inadeguatezza e di insoddisfazione che mi sono portata dietro da una vita. Adesso grazie al suo aiuto mi sento veramente una persona diversa e sta emergendo la vera Benedetta che in tutti gli anni è rimasta sepolta sotto questi sentimenti di insicurezza e di inadeguatezza. Adesso dentro di me ho una voglia mai provata prima di fare, di agire, ho una vitalità incredibile e sono cose che mi sono anche un po' nuove. E tutto questo grazie all'aiuto che mi ha dato Patrizia che veramente non smetterò mai 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 di ringraziare per tutta la vita perché mi ha consigliato, mi è stata vicina, mi ha aiutato veramente tanto. È stato un incontro un po' fortuito però si è rivelato quasi un punto cardine della mia vita, un incontro di quelli che insomma se ne fanno pochi in tutta una vita. Ecco. Patrizia, grazie di tutto.